Ci hanno unito il motore, il marchio, poi lo sport in generale, noi facciamo un sacco di cose, facciamo anche SAP, facciamo mountain bike, siamo una... si sono diverse discipline dice il robot. Siamo una grande famiglia a cui piace stare tutti insieme e dividere quei momenti che sono normalmente gioiosi ma in ogni caso anche nei momenti più duri quando c'è da aiutarsi ci siamo tutti. E poi un piccolo dettaglio, però la domanda la facciamo a lei. Cosa ti piace di tutto questo? Dicci la verità, cosa ti piace? Mi piace molto stare qua perché siamo tutti uniti e mi piace la sport. E come babbo va veloci in moto? E si è appoggiata anche la farfalla sul suo braccio. Grazie. Grazie. Che grazie. Brava. Gobbo fatti vedere. Ci siamo? Ok. Sì. Grazie.